Grazie a tutti. Ok, dovremmo essere in live. Secondo solo che verifico se si sente. Dovremmo. Ok, dovremmo essere in live. Ok, perfetto. Un secondo solo, ragazzi. Allora, apro la cabina di regia e sto qui così. Bello a tutti, ragazzi. Io sono Executive Chef Gabriele di In Cucina con Chef Gabriele. E benvenuti a tutti, ragazzi, in questa quarta live di In Cucina con Chef Gabriele. Allora, funziona tutto. La regia la possiamo mettere da parte. Questo anche. Allora, ragazzi, come state, come state, come state? Benvenuti in questa live. Come si sente l'audio? Spero bene. Per vedere, ho questo nuovo microfono in lavalier. Finalmente, come potete sentire, abbiamo un audio molto più pulito per i video, ma anche per le live. Quindi, finalmente, inauguriamo il lavalier. Che cosa faremo in questa live? Semplicemente vi presenterò le nuove funzioni e la nuova grafica del blog, che ricordo creare in collaborazione con Giallo Zafferano. Per chi non lo sa, per chi si è collegato a questa live tramite l'articolo che è uscito ieri sul blog, avrà già preso, penso, sicuramente visione di questo, che è il programma. E che ora vi vado a leggere, giusto per dare un attimo per questi 10-10 minuti di tempo che iniziate ad entrare. Per questa live io mi appoggerò come supporto a questo, quest'altro. Sono degli articoli, sono dei documenti che troverete sul nostro blog. Tra qualche giorno ho già programmato l'articolo. Vedete questi articoli, intanto mi appoggio a questo per questa live. e vi inizio a leggere il programma della live, così. Perché? Programma live streaming, canale YouTube, 29 settembre 2017. Il programma è stato redatto da Chef Gabriele, grazie al piffero. Tiro live, quarta live in cucina con Chef Gabriele, il blog. Live numero 4, data inizio 29 settembre 2017, orario inizio 21 e 15, durata massima 8 ore. La durata massima è quella che dice Google, che i Hangout vengono registrati per 8 ore. Dopodiché la live viene persa. Continuano ad arrivare le notifiche. Che succede? Scusatemi, questo è il gruppo dei moderatori che stanno lavorando su questa live. Ok. Mi dicono i moderatori che si sente molto bene. Scusatemi, questo è... Perfetto. Quanto adoro i miei moderatori. Zona massima 8 ore. Allora, iniziamo subito a leggere il programma. Introduzione a livello generale, inizio live per i successivi 5-10 minuti. Seguirà la spiegazione e la scelta del resta in grafico alle ore 21 e 30. L'introduzione della nuova grafica dall'e 21 e 35 fino alle 21 e 40. Continuano i moderatori, mi toccherà mettere il silenzioso. È la spiegazione del servizio di newsletter. L'illustrazione e spiegazione di come ci si iscrive al servizio di newsletter della redazione. Spiegazione, selezione, video, migliore aggiornamento, ultimo video. Questa è un'altra funzione della nostra... Che vi spiegherò più avanti. e saluto e ringraziamenti... ...te ore 20. Quindi, scusate un atto, questo è il gruppo dei moderatori e quindi mi occorre leggere... ...no, scusate... ...i moderatori, che cosa succede? Poi dicono che una persona deve essere seria. Va bene. Nel frattempo, io vi invito ragazzi a lasciare like. Come al solito si è buggato l'hangout di Google. E come al solito, ogni buona live si rispe... Mamma mia. Io, scusate, metto il silenzioso, metto il silenzioso. Metto il silenzioso. Silenzioso. Metto il silenzioso. Oh! No, scusate che poi non lo dice. Allora. Che devo fare? Già mi sono dimenticato. Questa è la vecchiaia dello chef. Allora. Ringrazio e saluto i ragazzi della terza di enogastronomia dell'Istituto di Istruzione Superiore Domizia Lucilla. Dopo questa voglio che i ragazzi già lo zafferano, mi aumentino il stipendio, che mi sono ricordato tutta a memoria. Eh sì, però così non ho l'orario. Vabbè, c'ho l'altro schermo. 21.35. E, ah sì, prima di tutto, ragazzi, ecco, i grandi mezzi e strumenti messi a disposizione, io direi di iniziare subito con la seconda parte del programma. Accedendo. Già sto avanti. Sono andato un punto avanti. Spiegazione del restyling. Allora, per spiegare il perché di questo restyling grafico. Allora, secondo che sono preparato è che qui col copione. Questo è perché le fa talmente bene che ti fa crashare e riavviare il tutto prima della live e per non perderti niente di riaprire le schede. Questo è il bello della diretta. Ovviamente, se questo fosse stato registrato queste cose e non le avreste viste, non le... L'italiano. Non le avreste viste! Vabbè. Chef Gabriele si impanica in live con l'italiano. Ottimo. E vedevate se era un video registrato, perché ovviamente esistono la post-produzione dei tagli. Se io prendo... Ragazzi, mi faccio un favore. Allora, quindi, iniziamo con le scartoffie. Il secondo punto di questa live, ossia la motivazione di perché di questo restyling grafico. Allora, uno dice... Sembra facile qui, ma... Grandi mezzi... Eccolo qua. Allora, come sapete ragazzi, io sono l'amministratore del blog... Vabbè, si è aperto WhatsApp Web. WhatsApp Web che si è aperto. Allora, come sapete ragazzi, io sono l'amministratore del blog In Cucina con Chef Gabriele. E come tale, tengo i contatti con Giallo Zafferano, Alter Vista, il nostro staff tecnico, la nostra produzione, la regia, la redazione e tutto ciò che sta dietro In Cucina con Chef Gabriele. L'amministratore del blog vengo contattato io direttamente, qualora ci siano dei problemi con il blog, da parte di Alter Vista e o Giallo Zafferano. Per questo, ringraziando il Cielo, esiste variati gruppi di lavoro su Facebook e tramite uno di questi svariati gruppi di lavoro... Chiedovenia, chiedovenia ragazzi. Allora, eccomi qui. Appunto, sono stato informato da Alter Vista che Giano aveva autorizzato e creato un nuovo stile grafico per i foodblogger che avevano l'host del blog sulla piattaforma di... Sulla piattaforma di Alter Vista per Giallo Zafferano. Per questo motivo, dopo che mi sono fatto mandare svariati screen, mi sono fatto spiegare svariate funzioni tecniche di questa nuova grafica e dopo che mi sono confrontato con lo staff tecnico di Cucina Chef Gabriele, ho e abbiamo deciso di effettuare questo nuovo restyling grafico dopo poco dall'ultimo restyling del blog. Si spera che questo sia l'ultimo restyling grafico. Si spera, perché comunque si spera che questa sia la grafica definitiva per molto tempo. Per chi mi segue su Instagram, sulla pagina Facebook e sui vari social, la nuova grafica che oggi andiamo ad inaugurare è andata online il 25 settembre 2017 alle ore 19.30, è andato online il nuovo stile grafico. Voglio leggervi quello che sarà una mia dichiarazione che ho fatto, che sarà scritta sul nostro blog e l'articolo in questione uscirà il primo settembre, sì, il primo ottobre 2017 alle ore 16, ma ora ne parliamo anche di questa cosa. Vi voglio leggere una mia dichiarazione. Sicuramente la nuova grafica dà un maggiore tocco di professionalità al nostro blog, rendendo l'interfaccia ancora più gradevole e pulita per gli utenti che giornalmente visitano il nostro blog. Questo è dichiarato da Chef Gabriele, inoltre continua. Voglio ringraziare in primis il mio staff tecnico e i ragazzi di Alter Vista, che dalle 12 di lunedì hanno lavorato per 7 ore consecutive al restyling del blog. Risolvendo anche il più minimo bug della grafica. Infine voglio ringraziare Giallo Zafferano, che ha permesso il rilascio di questa grafica. Per molte persone questo gesto può sembrare banale, ma per chi come me lavora sulla piattaforma di Giallo, sa che in realtà vuol dire che il celebre sito di cucina si sta affidando sempre di più dei propri food blog. Questa è una piccola parentesi che ho venuto aprire all'interno di questa live, leggendovi questa mia dichiarazione che è stata scritta sul nostro blog. Inoltre ragazzi, colgo l'occasione per dirvi che lunedì, primo ottobre, domenica, primo ottobre, chiaromenia, 2017 alle ore 16, uscirà sul blog un articolo scritto dai ragazzi dello staff tecnico dove vi spiegano quello che è stato fatto, vi spiegheranno le nuove funzioni del restare in grafico. Praticamente quello che facciamo, quello che vi faccio vedere io in questa live, verrà... Si vede bene il lavalier? Sì, vabbè, l'importante è che si sente. Chiedo, venia. Io vi sto spiegando adesso in live, è riportare un articolo sul blog. Comunque era molto bello inaugurare, ci vediamo molto, inaugurare la nuova grafica. E sì, qui ci andrebbe messa una nuova luce. Anzi, aspettate. Spettate le immagini di Chef Gabriele, darmi un secondo. Spettate le immagini di Chef Gabriele, darmi un secondo. Per notare i moderatori che stanno vedendo la live e che ora spero di aver risolto qualcosina con l'illuminazione. Mi sono messo troppo avanti, sistemiamo bene qui, ma mannaggia me, ok. E poi successivamente al domenica 1 settembre, lunedì 2 settembre 2017, sempre alle ore 16, su blog invece uscirà quest'altro articolo, che è, chiamiamole, istruzioni che servono, che spiegano come iscriversi al servizio di newsletter di Incusiono Chef Gabriele. Anche questa funzione ve la spieghiamo in diretta, qui in questa live. Grazie ai potenti mezzi di Google, l'hangout di Google. Continuiamo con... Dov'è il programma? Ce l'ho sotto mano. Con il spiegarvi ora i funzionamenti della nuova grafica. Innanzitutto accediamo al nostro blog. Vi voglio fare un paragone tra la nostra grafica e quella di Giallo Zafferano. Appunto, ringrazio ancora una volta i ragazzi di Giallo Zafferano che ho utilizzato questa grafica. Come si fa? Non mi ricordo più. Vediamo se ci riesco, se ci riesco, vi iscrivete al canale se non siete iscritti e lasciate il like alla live. Se riesco ad aprire pure la regia, ok? Ok. Ok. Sono... Per... Perfetto. Allora. Dovrei... Voi a breve dovreste vedere il sito di Giallo Zafferano. Vediamo se dalla... Da qua si vede. Ok. Adesso state vedendo il sito di Giallo Zafferano. Allora. Come potete vedere, questo è il blog. Il blog, magari. Il sito di Giallo Zafferano. Io vi invito a vedere bene i colori e la grafica. Perché questo è la riproduzione che è stata autorizzata da Giallo Zafferano per i blog di cucina o stati appunto da loro. Tra parentesi. Per coloro che mi chiedevano su Instagram privato perché io dicevo Arnold, dicevo gruppo Mondadori SPA, perché allora altervista... Piano. Giallo Zafferano era gruppo altervista Banzai Media. Adesso sono stati acquistati dall'Arnold... Arnoldo e... Arnoldo Mondadori... Mondadori, editore SPA, che appunto ha acquistato, oltre che Giallo Zafferano, ha acquistato anche altervista. Appunto, in poche parole, noi foodblogger che lavoriamo sulla piattaforma di Giallo Zafferano, vediamo pagare la Mondadori. Sì, stiamo parlando proprio di quella Mondadori Editore SPA che produce i libri, per farvi un esempio di scuola. Gli esempi di Chef Gabriele, che non lo sapete, sono famosi. Appunto, più o meno questa è la grafica che ha il blog... Sì, il blog a ritagliare, il sito di Giallo Zafferano. E adesso andiamo a vedere... Finalmente vi presentiamo la grafica nuova del blog di In Cucina con Chef Gabriele. Giustamente si è emozionato il serve. Ok, eccoci qui ragazzi. Giustamente voi ancora non lo vedete. Io ringrazio il cane che sta bagliando. Eccoci qua, allora. Appunti alla mano, perfetto. Allora, vi inizio subito a presentare la nuova grafica del blog partendo dalla testata principale del blog. Qui come volete... Giustamente, i cookie. Come volete notare, è cambiato ben poco, è rimasto invariata il nome del blog, la scritta in cucina con Chef Gabriele, è cambiato giusto... Il modo in cui è scritta. Però come volete vedere, ci sta una novità. Perché finalmente è stato introdotto dal 25 settembre, con la nuova grafica, abbiamo introdotto il motto ufficiale di In Cucina con Chef Gabriele, che è In Cucina con Chef Gabriele, la passione della cucina, in versione 3.0. In versione 3.0, appunto, come la nostra... Il nostro nuovo blog, che appunto, questo è il blog 3.0, con la nuova grafica. Come volete vedere, sotto al motto e al titolo del blog, abbiamo l'immagine di copertina dei nostri social e in page, per tornare all'home. Quindi, scendendo, possiamo trovare il banner, i banner pubblicitari di Google AdSense e se trovo la pagina giusta, sulle mie istruzioni, scusate per il cassino che state sentendo, vi vado a spiegare le funzioni del blog partendo dal lato di... se non ergo, sinistro, in ord... Ora vi vado a spiegare le mie funzioni del blog partendo dal... in ordine... partendo dal lato di sinistra. Allora, inoltre dirvi che insieme ai ragazzi della... dello staff tecnico, con l'aiuto dei ragazzi della redazione, abbiamo deciso di dare un nome diverso a quelle che sono i default, i widget del blog. Appunto, possiamo trovare all'inizio, sul lato sinistro, in prima linea del nostro blog, sulla testata, al lato sinistro, in alto, l'archivio storico di In Cucina con Chef Gabriele. È un menu a tendina che, aprendolo, è diviso in un elenco a tendina con i mesi in ordine cronologico dove ritroviamo gli articoli suddivisi per mesi di pubblicazione. Partiamo da marzo 2015, data in cui è stato... mesi in cui è stato aperto il blog, fino ad arrivare a settembre 2017. Qui sono divisi in ordine cronologico mensile i nostri articoli. Se ipoteticamente vogliamo andare a vedere la recetta con uscita a marzo 2015, basta cliccare in automatico il sistema vi riporta cronologicamente indietro nel 2015. Infatti, il sistema ci fa vedere che il 30 marzo 2015 sono usciti come ricetta i peperoni ripieni. Un articolo di prova che non capisco perché non è stato eliminato e questo lo segnalerò allo staff. La finta cronologica salata, in data 24 marzo. La torta allo yogurt, la ricetta di Chef Gabriele, 20 marzo. I panini al latte, 13 marzo. La spianatoia, il 11 marzo, questo era un hashtag ChefRisponde, addirittura con dei codici che dovrebbe essere pubblicità. Appunto, un altro articolo di prova che sarà a breve l'iminacoto. Un articolo di conversazione e così via. Mentre, appunto, utilizzando il tasto Home Page, torniamo alla nostra Home. Continuiamo scrollando in basso, sempre sul lato di sinistra. Troviamo il servizio e il modulo per iscriversi alle newsletter della redazione. Queste, le newsletter, ne parliamo più avanti nel corso della nostra live. E scendendo ancora di sotto, troviamo il link diretto ai nostri social ufficiali. Appunto, con i nostri social, basta cliccare, ad esempio, su Facebook per andare sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Come state vedendo. Come state vedendo. Mezza, come è baggata sta pagina. E appunto, potete mettere mi piace alla nostra pagina e seguire tutte le notizie che vengono pubblicate da me e dai miei collaboratori. Quindi dai, i ragazzi si occupano del Facebook. Mentre, tornando ai link, abbiamo anche il link diretto al nostro profilo Twitter ufficiale. Già che ci sto, mi spammo anche lì, in cucina con Chef G, seguimi anche su Twitter. Solitamente gestito dai ragazzi della comunicazione. A volte lo gestisco anche io. Però è raro che lo gestisco io. Solitamente Twitter viene gestito dai ragazzi della comunicazione. Io solitamente gestisco canali. A volte sì. Io in solito gestisco e pubblico sulla pagina Facebook e su Instagram. Appunto, nei link diretti abbiamo il profilo ufficiale, sottolineo sempre ufficiale, Instagram di In Cucina con Chef Gabriele. Appunto, In Cucina con Chef Gabriele. Dove questo viene pubblicato e aggiornato assolutamente da me le Instagram stories e foto di In Cucina con Chef Gabriele. Che potete trovare. Pubblico un po' di vita privata e un po' di In Cucina con Chef Gabriele, giustamente. Anzi, appunto, andiamo a vederci. Così che erano la video ricetta speciale In Cucina con Chef Gabriele. Le inticche stufate con piselli. Vi invito a vedere la video ricetta speciale dopo la live. Vediamoci questo video così tanto per. Prego. Bene. Successivo. Giusto sì per. Bellissimo, bellissimo. Questo l'avevo completamente riposto. Rivediamolo. Per chi sostiene che In Cucina con Chef Gabriele è popolato da persone normali. Bellissimo. Andiamo avanti. Abbiamo l'ultimo link che è quello che vi riporta al canale YouTube, appunto. Il canale YouTube ufficiale di In Cucina con Chef Gabriele. con tutte le varie video ricette, ricette, live. Ecco, appunto, adesso, giustamente, YouTube ci promuone che siamo dal vivo. Infatti, salutiamo live, salutiamoci. E vabbè, tutte le video ricette e varie video sono usciti sul canale. Mentre scendendo ancora. No, io voglio far notare la mia faccia a quanto... Perché? Cioè, io so che sul blog ci sta una cosa che non è riportata nelle istruzioni. Perché? Penso che quest'articolo in cui io mi sto basando anche non sia aggiornato all'ultima versione grafica del blog. Ma sia una bozza. E ora, ai ragazzi, ai moderatori che stanno seguendo la live, se mi contattano per telefono, mi vorrei riferire anche sul gruppo, i ragazzi dello staff tecnico, e se ci fanno sapere se l'articolo, il doc che ho io per la live, aggiornano o meno la versione attuale del blog. Non posso cavare da solo. Quindi io vi rimposto, o comunque sempre per la moderazione, su WhatsApp, scrivetemi là. Spero di riuscire a ricondividere lo schermo. Ok, attendiamo la confirma. Io da me lo vedo, ora arriverà tra qualche secondo anche da voi. E ci sta... Questa funzione vi stiamo per far vedere, questa costruccia vi stiamo per fare vedere. tengo a precisare che è una cosa che non la vedrete sempre. Allora, qui come volete vedere, in basso dove ho il cursore del mouse, ci sta la miniatura di questa live. Appunto, questo serve appunto per far capire agli utenti del blog che in una determinata data ci sta un qualcosa di speciale. Come ad esempio, si capisce che ci starà, ci sarà o ci sarà stata, una live streaming sul canale YouTube. Appunto, da qui, cliccando su questo link, si entrerà nell'architicolo. Adesso ci sta nella live, poi se prossimamente ci sarà una videoricetta speciale, verrà messo anche nella videoricetta speciale. Se invece non ci sta niente, una novità importante, questa cosa qui non si vedrà. Di questa cosa se ne occupano i ragazzi dello staff tecnico, quindi questa funzione qui viene aggiornata dallo staff tecnico di Il Cucino con Chef Gabriele, sentendosi con la redazione. Continuiamo il nostro tour de force sul blog, andando a vedere, nel frattempo, scusate, mi hanno iscritto dalla redazione, dai moderatori, pardon. Ok, mi confermano che il documento che ho io non è aggiornato, stanno, praticamente il documento in cui io sto facendo riferimento è il documento non aggiornato, era il progetto prima della nuova grafica del blog. E quindi da questo deduco che non è neanche aggiornato sul blog, quello che uscirà il primo ottobre, in quanto io l'ho scaricato da là. Vabbè. Andiamo avanti. Sul lato sinistro del, pardon, sul lato dextro del nostro blog abbiamo sempre la pubblicità di Google AdSense. Tasto cerca nel nostro blog, che non è riportato nelle istruzioni. Praticamente tramite questo servizio vi consente di cercare una determinata ricetta tramite una parola chiave. Praticamente, se non vi va di andare sulla home, ha fatto un fail. Fail, ragazzi. Aspettate un secondo. Fatto. Mi stavo dividendo la mia finestra di amministratore, mentre a noi interessa questa finestra, che è quella come utente. Che differenza c'è? Nessuna, sostanzialmente, solo che... Che belle le pubblicità di Google! Inappropriata, sostanzialmente, perché questo lo segnalerò ad altre viste. Allora, praticamente, tramite... No, scherzavo. Tramite questo servizio noi possiamo ricercare una determinata ricetta tramite la parola chiave. ipoteticamente a me mi interessa... Mi trovo sul blog di Chef Gabriele e mi interessa la ricetta della torta salata. Però, al posto di torta salata, io uso la parola chiave salata, salato, e, per me, il sistema vi riporterà in automatico tutte le ricette che hanno la parola chiave salato. come, appunto, la pasta fresca all'uovo, che non so minimamente cosa c'entri, e il panno di spagna salato. Appunto, a noi ci interessava il panno di spagna salato e, cliccandoci di qua, il sistema ci riporterà alla ricetta la redazione, appunto, abbiamo poi la normalissima ricetta che si sta caricando con video ricetta che vi porta direttamente, vi fa vedere direttamente il nostro video del canale, i vari ingredienti e il procedimento della prima versione di fotoricetta. Andiamo avanti con quelli che io chiamo i gioielli del blog, la parte più mi fa impazzire del blog. e ora vi faccio vedere come questa nuova funzione che vi so ora vi porta a vedere perché per chi non visita sempre il nostro canale gli permette di rimanere aggiornato sui nuovi video usciti sul canale. Appunto, stiamo parlando, se riesco a scendere, a salire, a sinistra, sotto al servizio di cerca vi sto parlando della sezione il nostro ultimo video. Praticamente, come funziona questo servizio? Praticamente, qui vedete l'ultimo video che è uscito sul canale che interaziona al 100%, basta cliccarsi per vedere il video, mettendo a schermo intero. Settembre. Cosa? Settembre. È il mese di ritorno alla normalità. Appunto, voi andate a vedere il video come lo vediamo noi sul canale YouTube senza aprire nuove schede e fare queste cose. Ovviamente, la visualizzazione viene contata sul nostro canale. E qui, con quanta periodicità viene aggiornata questa scheda del nostro ultimo video. Allora, questa periodicità viene aggiornata entro 24 ore dall'uscita di un nuovo video sul blog, sul nuovo video sul canale. Se ne occupano i ragazzi sempre dello staff tecnico su richiesta invece della regia. infatti, adesso se andiamo sul blog, sì, canale YouTube, vediamo che l'ultimo video con Chef Gabriele, l'ultimo video appunto è l'introduzione, l'inizio, il video annuncio dell'inizio della quarta stagione. Eccolo qua. l'ultimo video pubblicato è questo. Ovviamente domani barra domenica al massimo innanzitutto verrà aggiornato con questa live perché appunto questa live io non la elimino ma diverrà un video. Questo ovviamente varia a seconda i tempi tecnici di YouTube in che senso? Nel senso che io questa sera finita la live invierò un messaggio ai ragazzi e allo staff tecnico richiedendo di aggiornare il nostro ultimo video inserendo appunto la live. Il problema è che questa funzione non lo potremo fare nell'immediato perché bisogna attendere che YouTube elabori la live come video. Infatti per chi non lo sa una volta che io chiudo questa live non verrà pubblicata nell'immediato ma passerà qualche ora perché YouTube la dovrà elaborare e noi dovremo caricare anche la miniatura. Quindi domani mattina penso domani pomeriggio questa live diventerà un video pubblico e penso tra domani sera barra lunedì mattina verrà aggiornata sul nostro blog. Mentre per quanto riguarda il normale video ricetta l'aggiornamento è di circa 12 barra 24 ore dopo l'uscita del video. Mentre scendendo ah ovviamente questa funzione è molto utile a mio punto di vista dal punto di vista diciamo per così dire per chi non segue il canale è ottimo perché viene sempre aggiornato è sempre aggiornato su qual è l'ultimo video uscito ed ha anche molte visibilità al canale e ai nostri video. Scendendo ancora troviamo gli ultimi articoli della redazione viene aggiornato automaticamente dal sistema e sono riportati gli ultimi 5 articoli pubblicati sul nostro blog in ordine cronologico. Appunto qui vediamo gli ultimi articoli sono scelti sul blog in ordine cronologico gli ultimi 5 articoli sono un giorno fa live quarta live inaugurazione della nuova grafica del blog il cucino chef Gabriele 3.0 quattro settimane fa l'articolo ricordava inizio la quarta inizio la quarta stagione due mesi fa il termine della terza stagione sempre due mesi fa la ricetta cheesecake alla nutella e sempre due mesi fa i spaghetti con il tonno appunto io vi posso confermare che questa arti questo posso confermare al 100% che il sistema aggiorna automaticamente in quanto io ho la foto sotto mano nel copione e io tre mesi fa avevo al posto dei spaghetti con il tonno avevo panni spanni assalato adesso si è aggiornato con l'articolo di ieri questo è un aggiornamento e solitamente è immediato e viene fatto ovviamente dal nostro sistema scendendo ancora ho due cerca bene scendendo ancora ho una chicca personale che ho sostanzialmente insistito che è il miglior video del momento eh ovviamente qui verrà innanzitutto il mio video è la videoricetta speciale andiamo a vedere un attimo insieme alla mia regia e alla mia relazione e ho deciso di fare un viaggio eventuale con un paese dell'Unione Europea per essere sicuramente la Polonia e di portare una video ricetta speciale organizzando un prato o anche una cena e anche cambiando la nostra data perfetto perfetto grazie tecniche abbiamo abbiamo deciso di rimanere in Italia di rimanere in Italia ma di visitare una regione per me molto oh ok tutto sto facendo fare shit del video appunto il nostro miglior video del momento è la videoricetta speciale in cui c'è lo chef che è lenti che sto fare un piselli questo viene aggiornato sempre dallo staff tecnico su mia richiesta e come viene selezionato il video migliore del momento allora innanzitutto è una decisione mia personale che viene poi allora prendo una decisione e prendo io personalmente vedendo giudicando quello che secondo me è il video migliore fatto al momento e poi con decisione con i dati di google analytics appunto confermato anche da google analytics le lentiche su fare il piselli è la nostra videoricetta che al momento va al momento è la più vista ed è la migliore l'aggiornamento di questo è ovviamente una cosa che ci vuole un po' più di tempo per aggiornarsi in quanto solitamente dopo uno due mesi se ci sta una nuova videoricetta perché dobbiamo dar tempo a google di aggiornarsi dobbiamo dar tempo anche che il video venga visto e qui sotto ritorniamo ad avere una funzione ricerca questa che verrà segnalata allo staff tecnico questa funzione verrà rimosta perché questa comunque già è presente c'è un doppione perfetto sul blog e adesso ragazzi vi parlo della torniamo a parlare della testata principale praticamente sotto il tasto home page ovviamente qui al centro abbiamo gli articoli e le ricette che sono pubblicate sul blog solitamente sono in ordine cronologico di pubblicazione e sono aggiornate automaticamente dal sistema salvo articoli messi in primo piano ossia un articolo messo in evidenza come ad esempio questo rimane tutti fino a quando non viene aggiornato ad esempio questo articolo qui al momento è in evidenza verrà poi tolta evidenza al telemedia live quindi torniamo un attimo in webcam allora ragazzi io ho fatto riferimento a questo documento qui che è stato redatto dallo staff tech stato scritto dal reparto tecnico di cucina staff Gabriele in data 26 settembre 2017 ore 15 e 56 questo documento lo ritrovate sul nostro blog lo potete scaricare gradualmente dal nostro blog a partire dal domenica 1 ottobre 2017 alle ore 16 uscirà l'articolo che vi presenterà la nuova grafica con tutte dove viene spiegata appunto le nuove funzionalità del blog inoltre vi voglio ricordare che lo staff tecnico di in cucina con chef Gabriele rimane a disposizione per ulteriori domande ed informazioni da parte degli utenti scrivendo una mail all'indirizzo chef Gabriele 1 chiocciola altervista punto or inviando la s-mail anche per conoscenza alla segretaria in cucina con chef Gabriele chiocciola gmail punto com inserendo come oggetto nella mail informazioni stile grafico blog in cucina con chef Gabriele attenzione la mail chef Gabriele 1 chiocciola altervista punto org non è gestita da chef Gabriele direttamente ma bensì dal reparto tecnico di cucina chef Gabriele che si occupa di controllare e gestire i blog per tutto ciò che riguarda il sistema tecnico poi perfetto adesso siamo più o meno nel programma andiamo a parlare di un servizio molto importante che è stato voluto dalla redazione allora un attimo mi devo riprendere un secondo ragazzi anzi ragazzi vi chiedo gentilmente datemi un minuto di tempo che vado a bere che qui mi sono fatto un infatti danni mi sono fatto un litro d'acqua in questa live vi chiedo un minuto di pazienza che mi vado a prendere altra acqua un secondo rimanete in attesa il tuo operatore li per rispondere alle tempi che abbiamo indicato a prendere Grazie a tutti. 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 Allora ragazzi vi ringrazio per la pazienza, siamo, sono anzi tornato. Allora, vediamo qui, se dalla scheda di regia mi danno info... Ok, zitto, 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 mudo. Allora ragazzi, appunto, ora vi parliamo di un servizio che la mia redazione ci tiene molto, ossia il servizio di newsletter. Vi leggo brevemente ciò che mi è stato chiesto di leggere da parte della redazione che troverete scritto anche sul nostro blog. A partire dalle ore 9, sì, va bene, dalle ore 9, sono partito io. A partire dalle ore 19.30 del 25 settembre 2017 abbiamo caricato la nuova grafica del blog. Assieme alle novità grafiche, assieme alle novità grafiche concesse da Giallo Zafferano, ex Banzai Media, ora Arnoldo Mondatori, SPA, tramite Altervista, abbiamo incrementato alcuni nuovi servizi. Sia per la redazione che si occupa di caricare le ricette sulla piattaforma, che per coloro che seguono come pubblico o lettori il blog di In Cucina con Chef Gabriele. Le novità fondamentali per i lettori, oltre al livello grafico, è stata l'incrementazione del nuovo servizio di newsletter. Come funziona, con quali cadenze arrivano le mail, come registrarsi, eccetera, vi verrà spiegato a breve. Allora ragazzi, prima di spiegarvi come funziona il servizio di newsleting di In Cucina con Chef Gabriele, anzitutto aprire la miniatura, se la trovo. Bene, perfetto. Un secondino vi chiedo ancora. A quando la gente ti sposta le cose e ti eliminano i file dal desktop, meno male che sul blog. Ok. Che succede? Questo. Ecco qua. Allora, un secondino e vi metto, anzi, un'immagine per caricare Posso caricare all'interno dello streaming. Ok. Allora, adesso vi andrò a leggere e rispondere alle domande sicuramente più famose per quanto riguarda i servizi di newsletter. Ovviamente le risposte alle domande sono state fatte e scritte dallo staff tecnico. Ok, condividi. Perfetto. Sì. Allora, voi adesso dovreste vedere la... una miniatura. Vediamo se mi viene confer... Nooo! Ehi, stai fermo! Nooo! Ehi! Ehi! Sì, ciao! Un secondo! Oh! Dai! Va bene! Tutto risolto! Tutto risolto! Volevo fare una cosa, ma quello che volevo fare io non si può. Slitterblog, condividi. Perfetto! Purtroppo ci dobbiamo accontentare così. Allora, iniziamo subito a rispondere alle domande più comuni. In primis... In primis, chi si occuperà dell'invio delle newsletter? La gestione delle newsletter è divisa secondo un protocollo di gestione e mantenimento delle comunicazioni con gli interessati al rapporto con il cugino Chef Gabriele. Siglano dall'ex ego di Chef Gabriele e dal direttivo. Per ciò che riguarda la scrittura delle mail, verrà fatta dai ragazzi e ragazze della nostra redazione. L'impaginazione grafica verrà gestita dai ragazzi della regia che si occupa, oltre che della registrazione delle videoricette, anche della post-produzione e caricamento dei video sul canale YouTube. Invece, per l'invio e la gestione delle iscrizioni al servizio, il compito spetterà al settore tecnico. Il tutto sarà revisionato dai membri del direttivo. In poche parole, la redazione si occuperà di scrivere le newsletter, la regia di impaginare e lo staff tecnico si occuperà dell'invio e della gestione delle iscrizioni al servizio. Prossima domanda. Con quale frequenza arrivano le mail? Chef Gabriele, attenzione, questa decisione l'ho presa io per evitare di avere un servizio di newsletter che non diventi poi un servizio di spam stalking. Che cos'è il servizio di spam stalking? Ve lo spiego dopo questa risposta. ha deciso di comune accordo con la redazione di inviare le newsletter secondo necessità, ovvero ogni qualvolta verrà caricato un articolo ricetta sul sito. entro 48 ore dalla pubblicazione ne verranno informati tutti coloro che hanno effettuato l'iscrizione al servizio di newsletter del blog. qualora in una settimana sono in programma l'uscita di numero pari maggiore a 1 di articoli ricette avrà inviata la mail successivamente alla pubblicazione di tutti gli articoli in programma per la settimana corrente. Praticamente ogni volta che uscirà un articolo o ricetta sul blog arriverà una mail dopo 24 ore circa. In caso che in una settimana è in programma l'uscita di 3 ricette, quando tutte le 3 ricette usciranno, saranno uscite, vi arriverà la mail. Il tutto per evitare di non andare a creare un servizio di newsletter spam stalking. Ossia le newsletter spam stalking sarebbero quelle email di newsletter che arrivano più volte al giorno, che diventano letteralmente poi uno stalking. perché sinceramente a me per primo avere sì, io anche sono iscritta dei servizi di newsletter, ma avere che ogni giorno per più volte al giorno mi arriva una mail è veramente una cosa eccessiva. Prossima domanda. Quanto costa l'iscrizione alle newsletter? In cucina con Chef Gabriele mette a disposizione gratuitamente il servizio. Basta semplicemente registrarsi compilando un form molto semplice. A breve vi spiegheremo come effettuare la registrazione al servizio. Questa invece è una domanda molto importante. Cosa faccio se non arriva la mail di conferma iscrizione? Se avete effettuato correttamente l'iscrizione al nostro servizio, il sistema mi metterà davanti un messaggio generato da un conto automaticamente di conferma iscrizione. E poi andremo a vedere più avanti in questa live. Ben fatto, ci siamo quasi. Ora controlla il tuo post in entrata o la cartella spam per confermare la tua iscrizione. Grazie alla redazione. Se nella vostra casella di post elettronica non trovate la mail, controllate nella cartella spam indesiderata. Qualora neanche nello spam trovate la mail, vi invitiamo a contattare il nostro staff tecnico all'indirizzo mail chefgabriele1-altervista.org ed per conoscenza alla nostra segreteria in cucina con chefgabriele-gmail.com inserendo nell'oggetto problemi attivazione account newsletter. Allora, adesso vediamo se ci stanno altre domande. No. No. Ok. E adesso entriamo nella vera e propria fase di... Eh... Di come si chiama? Di iscrizione alla newsletter. Quindi andiamo a prepararci. Tengo a precisare una cosa. Noi abbiamo creato... Cioè io ho creato un account email apposito per... Così ho... Ho creato un indizio email apposta per fare questa registrazione. Perfetto. Ho creato un indizio email apposta per fare questo video. Ovviamente l'indizio email che andremo ad utilizzare per fare questa live, per fare quindi questa spiegazione di come iscriversi al servizio, dopo questa live verrà eliminato. Per non mettere... Ah, cosa molto importante. Le email vi arriveranno da parte di In Cucina Chef Gabriele. Quindi nella mail voi vedrete In Cucina con Chef Gabriele chiocciolo gmail.com come indirizio email. Allora, quindi... Ok. Perfetto. Blog. E... Allora, adesso ci troviamo a modere vedere sul nostro blog. Scendiamo. Iscriviti alle newsletter della redazione. Ok. Per prima cosa dovrete accedere al blog, al nostro blog andando sull'indirizzo blog.gianozafferano.it slash chefgabriele1 slash. Scendete fino a iscriviti alle newsletter della redazione. Allora, qui abbiamo un form da compilare secondo come segue. Allora, nel riquadro nome dovrete inserire il vostro nome di battesimo che non è obbligatorio. Attenzione, seguirà una informazione. Quindi nome, nome, esempio. Attenzione, create l'iscrizione alle newsletter, inserite un nome palesemente fake come nome esempio. Il sistema poi vi autorizzerà l'iscrizione ma verrà successivamente bloccato dal nostro staff tecnico. Dovrete inserire il vostro cognome. Attenzione, anche il cognome non è obbligatorio. Seguirà successivamente una nota. Ad esempio, cognome, esempio. E infine, nel riquadro email dovrete inserire l'indirizzo mail con il quale volete essere contattati. Attenzione, obbligatorio. Devo capire. Ok. L'indirizzo email che poi verrà chiuso e starà aperto apposito per questo video è email di prova newsletter. Chiocciola. Perfetto. Ok. Una volta aver inserito il vostro indirizzo email dovrete cliccare su iscriviti. Piano. Vi devo dare delle informazioni. Per quanto riguarda il nome, non è obbligatorio inserirlo. Obbligatorio. Però vi chiediamo di inserire almeno il vostro nome di battesimo. perché nel caso ci pervenisse un'iscrizione senza nome, il sistema non autorizzerà l'accesso e l'iscrizione alle newsletter. Se avete un nome palesemente fake come nome esempio, cognome esempio, i ragazzi e il nostro staff tecnico vi elimineranno l'account. Mentre la mail ovviamente è obbligatoria. Una volta inserito questi dati dovrete cliccare su iscriviti e il sistema effettuerà l'iscrizione. Esatto. Adesso vi arriverà, se vi effettuano correttamente l'iscrizione, una risposta di questo genere. Il sistema effettua correttamente l'iscrizione al servizio e il sistema vi risponderà con un messaggio di conferma. Ben fatto. Ci stiamo quasi. Ora controlla le due poste d'entrata o la cartella spam. Per confermare la tua iscrizione. Grazie. Il passo successivo da fare adesso sarà accedere alla nostra mail comunicata. E eccolo qua. E ci arriverà una mail. Faremi eliminare questa roba. Intanto. Ci arriverà una mail da In Cucino con Chef Gabriele. Appunto, dovete vedere l'indirizzo. Che sarà quello di In Cucino con Chef Gabriele. L'oggetto della mail sarà l'iscrizione alle newsletter di In Cucina con Chef Gabriele. Ah, ok, le sta caricando, pardon. Tempo che si carica. Nel frattempo. Eh, le mail ufficiali di Cucino con Chef Gabriele saranno così. Tempo che si apre ve le faccio vedere. In caso non si aprisse, io sono preparato. Pensate. Pensate che io non sia sbagliato. Nell'apertura del file. Chi è Dovenia? Ok, sono un attimo ricaricando gli indirizzi mail. Altro mi informo che molto probabilmente inizierò a fare anche live, anzi, sul mio profilo Instagram. Ok, si è aperto. Dio si è lodato. Quindi, ricondividiamo. Secondo solo che vi riattivo la visuale. La visualizzazione. Per questo sarà, sono le mail ufficiali di Cucino con Chef Gabriele. Ci identificate, ci riconoscete perché ci sta il nostro logo ufficiale. In Cucina con Chef Gabriele. L'indirizzo email è in cucina con chef Gabriele chiocciola gmail.com tramite ns221.altervista.org che è il server che invia la mail. Il test ufficiale. Ciao. Congratulazioni. Ti sei appena iscritto alle nostre newsletter. Alle newsletter del nostro blog. Pardon. Devi confermare la tua iscrizione cliccando il seguente link. Conferma la tua iscrizione ed è un link che vi attiva. Vi conferma l'iscrizione. Grazie alla redazione di Cucino con Chef Gabriele. Quindi, voi cliccate sul link. Vi si apre una nuova scheda che vi porta sul nostro blog. E vi apparirà un messaggio di conferma iscrizione. Se siete iscritti a lettori blog, se stai aggiuntando la nostra lista, ti contatteremo presto. Adesso voi vi siete iscritti ufficialmente alle nostre newsletter. Facile? Io direi di sì. Quindi, un secondino. Ti ringraziamo per esserti iscritta alle newsletter di In Cucino Chef Gabriele. Ti ricordiamo che se hai bisogno ci puoi contattare tramite email all'indirizzo chefgabriele1chiocciolaaltervista.org ed per conoscenza In Cucina con chefgabrielechiocciolagmail.com Nell'oggetto della mail problemi iscrizione newsletter. e la nostra pagina Facebook ufficiale In Cucina con chef Gabriele. Tutte le informazioni su come è il procedimento orretto per iscrivervi al nostro blog sarà pubblicato il 2 ottobre alle ore 16 sul nostro blog. Devo dire che abbiamo seguito molto bene il programma e sono soddisfatto di questa live. Per chi, chiedendo, sicuramente arriveranno poi queste domande, perché non ho fatto la live domenica 1 ottobre visto che usciva l'articolo che spiegava le nuove funzionalità del blog semplicemente per questo perché io sabato 30, quindi domani mi studio a preparare con la redazione una nuova fotoricetta tra due sarò di nuovo in studio con la regia a preparare la videoricetta che corrisponde alla fotoricetta che registriamo e praticamente non ho praticamente tempo logistico e ho detto o la faccio oggi la live o non la faccio più ed ho preferito farla oggi. Quindi il mio programma mi riporta saluti e ringraziamenti e ringrazio è il momento dei ringraziamenti ringrazio i moderatori di In Cucino con Chef Gabriele che hanno partecipato alla moderazione di questa live lo staff di In Cucino con Chef Gabriele lo staff tecnico che ha permesso della modifica e della realizzazione del nuovo stile grafico sul nostro blog lo staff tecnico di Alter Vista per aver collaborato ed assistito all'attivazione ed programmazione del nostro stile grafico ringrazio Giallo Zafferano ex Banzo Media ora mondatori mondatori per aver permesso di autorizzare e la divulgazione del loro stile grafico anche per i food blog della piattaforma di Giallo Zafferano per Alter Vista ringrazio tutti voi fan e prima di salutarvi vi invito a cliccare mi piace alla mia pagina Facebook In Cucina con Chef Gabriele vi invito ad iscrivervi YouTube In Cucina con Chef Gabriele a seguirmi su Instagram In Cucina con Chef Gabriele e su Twitter In Cucina con Chef G iscrivervi al servizio di newsletter della redazione di In Cucina con Chef Gabriele procedimento l'avete visto in questa live vi spoiler e annuncio che sabato e domenica lavoreremo per la realizzazione di in martedì molto probabilmente tornerò in studio per preparare un'altra videoricetta la videoricetta uscirà a breve prossima settimana e probabilmente questo mese saranno due videoricette non è assicurato però molto probabilmente io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione della gestione di questa live ringrazio voi fan spero che il nuovo microfono lavalier vi piaccia per questo nuovo audio molto pulito che abbiamo lasciare un bel mi piace alla nostra live e a commentare vi informo infine che in questa live questo video diventerà privato momentaneamente per consentire a YouTube di elaborare con tutta calma la live e renderla da diretta streaming a video domani mattinata da questo video tornerà di nuovo online come video entro 24 ore quindi circa tra domani sera e mattina verrà aggiornato anche sul nostro blog l'ultimo video sul nostro canale da Executive Chef Gabriele è tutto noi ci vediamo come sempre alla prossima videoricetta ciao grazie a tutti Grazie.